Un giovane amante dello sport e del giornalismo. Viene ricordato così a Castel di Sangro Carlo Graziani, morto prematuramente all'età di 24 anni a causa di una malattia, il 24 giugno 2012. In suo onore è stato bandito il concorso nazionale Scriviamo lo Sport, giunto alla quarta edizione, organizzato dall'Associazione Spazio Pieno, in collaborazione con il Circolo Fotoricreativo Occhio Magico. L'iniziativa è rivolta ad aspiranti giornalisti e ai fotografi. La prima sezione riservata all'articolo giornalistico prevede le categorie cuccioli dagli 8 ai 13 anni, ragazzi dai 14 ai 18 e giovani dai 19 ai 26 anni, con l'obbligo di non essere iscritti all'albo dei giornalisti, che dovranno presentare un elaborato riguardante un evento sportivo direttamente vissuto, immaginario o memorabile. La seconda edizione, riservata alla fotografia, non prevede limiti di età ed è aperta a fotografi iscritti e non alla FIAF. Il tema è l'attimo vincente, che induce i partecipanti a catturare e comunicare i valori fondanti dello sport, al fine di trasmettere i principi sui quali deve basarsi ogni competizione sportiva. Le opere dovranno essere presentate entro il 31 marzo, mentre la cerimonia di premiazione è in programma il 4 maggio al Teatro Tosti di Castel di Sandro. I premi consisteranno nella partecipazione gratuita ad eventi di prestigio come al World Series di nuoto paralimpico, ad una partita degli internazionali di tennis e ad una gara del campionato nazionale automobilistico Super Cup, ma sono previste anche visite alla Gazzetta dello Sport, al Centro Tecnico Federale di Coverciano e la possibilità di usufruire di schipass stagionali per il comprensorio scistico a Remogna-Montepratello-Pizzalto. Il regolamento del concorso e le modalità di partecipazione sono consultabili sui siti delle due associazioni www.spaziopieno.it e www.circolocchiomagico.it. Carlo Graziani coltivava la passione del giornalismo sportivo e nel 2000, all'età di 12 anni, coronò il sogno di realizzare una telecronaca, partecipando alla trasmissione di Tele più, telecronista per un giorno, condotta da Fabio Caressa. Mi chiamo Carlo Graziani, ho 12 anni, vengo da Castellisangro in provincia dell'Aquila e sono un grande appassionato del Milan e sono qui per commentare la partita fra Milan e Juventus. Un'uscita a vuoto di Idwin van der Sar e Shevchenko ha infilato il portiere juventino con un gran colpo di testa. Non so mica se abbiamo avuto una bella idea a fare queste cose telecronista per un giorno, io da telecronista, se continuare così noi ce ne andiamo tutti a casa. L'auspicio degli organizzatori di Scriviamo lo Sport è quello di rendere ogni anno felici i giovani, un desiderio che è maturato sempre più dopo la perdita di Carlo Graziani. A Tostacca e Paparesta ha segnato il rigore a favore dei rossoneri, vediamo qui Shevchenko, l'entrata di Birindelli comunque sul pallone, nettamente sul pallone.